Salve amici e benvenuti in un nuovo video! Oggi video di nuovo unboxing! Questo è un pacchettino che viene da Aliexpress, ci ha messo 20 giorni, proprio precisi, spaccati, ad arrivarmi. Sono molto molto contenta, per fortuna non ci ha messo tempi biblici come è solito fare Aliexpress e non vedo l'ora di farvi vedere cos'è perché è una cosa di cui ero abbastanza incuriosita e alla fine mi sono buttata perché costava veramente poco e quindi io direi di non indugiare oltre e procedere con l'unboxing! Allora eccoci qua, io direi di aprirlo subito senza nemmeno indugiare oltre anche perché come dicevo nello scorso video a me gli unboxing non mi piacciono Ogni volta si fa una roba assurda Eccolo qui! Il cupette! Oh, il cupette! Dai, pensavo peggio la scatola, in realtà è abbastanza integra Sono molto molto sorpresa! Ma perché ho deciso di prendere il cupette? Perché questa è l'ultima versione uscita e ne ero rimasta molto incuriosita per le funzioni che ha Tra l'altro poi anche in lingua inglese il che è fantastico ed è un misto sembra tra Tamagezi e Touma Pet Boh, però i personaggi sembrano molto carini L'ho scelto fucsia Sempre il solito schifo di polvere però anzi meglio di niente L'ho scelto fucsia ma c'è anche viola, bianco e blu La cosa bella di questo v-pet è che appunto si può aprire a parte pulire Ma si può cambiare il faceplette Non vedo l'ora di personalizzarlo Perché questo sinceramente non mi piace per niente Ma direi di andarlo subito a accendere Veramente, se pensavo peggio È molto carino in realtà Anche il colore mi piace tantissimo Ma che suono inquietante è! Aiuto! Allora Oddio Il suono è veramente orribile Allora Mi fa scegliere subito il sesso Quindi vabbè Scegliamo femmina E il personaggio da ottenere Che carini Vabbè Scegliamo la love litchi fake Il mio nome Allora Vi ho saltato tutta la tiritera Nome Data Eccetera Perché comunque essendo in inglese Si capisce bene Ma devo dire che in realtà Lo schermo non mi dispiace per niente È proprio grosso Cioè è veramente grande Ora Prendiamo il tamagotchi normale Cioè guardate che differenza di schermo Cioè non è male It's time for dinner Ok Allora sicuramente Statistiche Oh che bello però vederlo Tutto in Incaser Ma che che è? Vabbè È molto bello vederlo in inglese In realtà Oh questa è la scuola Ma che roba Ma che roba Però io sto vedendo un po' di roba Veloce Mamma mia Sti suoni Aiuto No ragazzi Io tolgo il volu Ecco Almeno lo abbasso Scusami Comprati da mangiare No? Ecco Io lo porto a casa Addirittura Ma che cavolo è? Ma poi io dove avevo questi soldi? Ah vabbè Ce li avevo Era partita con i soldi Vabbè Diamogli questo Abbiamo comprato Mamma mia Che suoni No Meglio giocarci senza suoni Sinceramente È proprio Orribile Vabbè Comunque Inizierà questa avventura Col chiupetto Ovviamente arriverà una guida Per questo modello I pro Mi piace tantissimo Lo schermo È veramente grande Super luminoso No Veramente fatto bene Molto bene Mi piace il fatto Che si possa personalizzare Il faceplate Infatti probabilmente La prossima volta Lo vedrete personalizzato Me lo voglio studiare un po' Per bene Per Per il resto I contro Sono ovviamente Questi suoni Maledetti Dall'inferno Comunque Questa era l'icona Per prendersene cura E Veramente Brutti Questo non serve a niente Vabbè I suoni sono veramente Bruttissimi Quindi Va bene Adesso come video unboxing Va più che bene Volevo dare un'occhiata Un attimo alle istruzioni Se c'era qualcosa Sono fatte molto bene Anche le istruzioni Sono in inglese Fantastico Sarà più facile Fare una guida Con le istruzioni In inglese Bene Sono molto curiosa Di scoprirlo Cioè Guardate quanto è grande Ora abituata Di tamagocinano Mi sembra Tutto più grande Però no Veramente È uno schermo Bellissimo Fatto Strabene Su quello Non ci si può dire Proprio nulla È veramente Anche luminoso No Veramente carino E anche la scocca È fatta bene Non c'è graffi Sembra Voi il colore È molto bello Questo Lo devo Lo devo Ammettere Senz'altro No Sono contenta Ripeto I suoni Non mi fanno impazzire È una cosa Che mi dà un po' fastidio Perché io amo giocare Con i suoni Però Fa niente Non vedo l'ora Di scoprirlo E di fare una guida Quindi Mi raccomando Lo trovate Su Aliexpress Vi lascio Il link In descrizione Bene Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Date un'occhiata Alle mie playlist Iscrivetevi al gruppo Tamagot Italia Su Facebook Mettete un bel mi piace Alla pagina di Tamagot Italia Noi quindi Ci vediamo Al prossimo video Che vi ho promesso Uscirà domenica Mi raccomando Ciao amici